Ciao a tutti qui per Ligi di Grafica Facile e in questo video vi spiegherò come utilizzare Photoshop in meno di 10 minuti La prima cosa da fare è andare sul sito di Adobe ufficiale e come potete vedere potete cliccare sulla prova gratuita anziché acquistare il programma e potete provare Photoshop per 7 giorni Ora nel momento in cui l'avete scaricato e lo aprite potete vedere questa finestra qui In pratica potrete sia creare un nuovo file che aprire oppure visionare i file più recenti Ora cliccheremo su New File e creeremo questo nostro primo file Come potete vedere qui possiamo cambiare il nome del file, quindi ad esempio scriveremo test E qui possiamo cambiare e decidere qual è l'unità di misura che utilizzeremo In questo caso andremo con i pixel e utilizzeremo il formato landscape Poi qui ci sono altre opzioni che potrebbero essere utili per progetti più specifici Adesso clicchiamo su Create e come potete vedere abbiamo il nostro file aperto La prima cosa che dobbiamo imparare è come navigare nel file Quindi la prima cosa da fare è selezionare Spacebar e come potete vedere il cursore cambia E possiamo utilizzare il tasto sinistro del mouse per fare clic e muovere il canvas in giro A questo punto un'altra cosa molto utile e importante sono i tasti Command meno e Command più Oppure se siete su Windows Control meno e Control più In maniera tale da poter fare zoom in e zoom out nel proprio progetto A questo punto andiamo a vedere quali sono gli primi strumenti che andremo a utilizzare più spesso con Photoshop E come potete vedere qui ad esempio abbiamo lo strumento rettangolo Che possiamo utilizzare semplicemente cliccando e modificando anche l'oggetto in maniera semplice e intuitiva E lo stesso vale per tutte queste altre forme che abbiamo a disposizione E ovviamente dato che Photoshop è uno strumento di fotoritocco non possiamo non parlare delle immagini Quindi andiamo ad aggiungere subito un'immagine Se clicchiamo su File e andiamo su Place Embedded potremo vedere che abbiamo accesso a tutti i file del computer A questo punto clicchiamo su questo JPEG Clicchiamo su Place e come possiamo vedere avremo l'immagine nel file Che possiamo ridimensionare proprio come quegli altri elementi che abbiamo aggiunto precedentemente Ora per confermare questa selezione basta che clicchiamo sul tasso Enter e l'immagine verrà applicata A questo punto possiamo notare nella barra dei livelli a destra che abbiamo tre livelli sostanzialmente Il primo è l'immagine che abbiamo appena caricato Sotto questa troviamo il rettangolo che abbiamo creato precedentemente E sotto ancora avremo il background A questo punto per cambiare l'ordine dei livelli e far vedere il rettangolo basta che lo selezioniamo Lo mettiamo sopra il livello dell'immagine che abbiamo appena aggiunto Se utilizziamo lo strumento Move Tool possiamo anche modificare la zona in cui è questo rettangolo Per quanto riguarda il tutorial adesso parliamo di come modificare le selezioni e poter selezionare Diciamo parti dell'immagine in maniera semplice e veloce A questo punto selezioneremo il rettangolo e facciamo clic sul Return Key in maniera tale da eliminarlo E come potete vedere subito qua sotto abbiamo degli strumenti che ci permettono di selezionare parti dell'immagine Il primo permette di creare queste elissi o cerchi E se teniamo premuto il tasto sinistro del mouse possiamo avere accesso a questo menu Che permette di utilizzare lo strumento selezione rettangolare Ora nel momento in cui facciamo queste selezioni possiamo sia fare copia e incolla Per creare un duplicato di questa selezione in particolare Oppure possiamo anche schiacciare il tasto Return in maniera tale da cancellare quella zona In questo momento non me l'ha fatta cambiare perché questo è un Smart Layer Però nel momento in cui rasterizziamo questo livello che praticamente lo renderà un livello normale Possiamo anche cancellare tranquillamente tutte le zone che vogliamo nella nostra selezione Un altro strumento di selezione molto utile è il Lazzo Tool Che permette appunto di creare delle selezioni più mirate E quindi se facciamo zoom possiamo vedere come si va a creare tutta una serie di selezioni che sono più rigide Però nel momento in cui facciamo doppio clic potremo riuscire ad avere questa selezione Una selezione che è una via di mezzo tra quelle che abbiamo usufruito prima E una selezione magari più specifica e meno fissa Che può essere ad esempio quest'altro strumento che è il Lazzo Tool E possiamo selezionare queste parti in maniera più semplice Soprattutto se usufruiamo di una tavoletta grafica Un altro strumento molto utile è la Magic Wand Che è uno strumento molto famoso per quanto riguarda Photoshop E permette di selezionare delle zone dell'immagine simili dal punto di vista cromatico Quindi ad esempio se mettiamo la tolleranza 10 in maniera tale che raggiunga un spettro di colore meno vasto Possiamo vedere come possiamo selezionare in un solo clic Questa immagine di questa persona In maniera relativamente precisa Poi ovviamente si può sempre rifinire E possiamo anche utilizzare questo strumento in connubio con gli altri Ad esempio se vogliamo non includere questa zona qua Possiamo utilizzare il Lazzo Tool Tenendo premuto il tasto Shift Possiamo vedere come il cursore cambia E si aggiunge questo più E a questo punto avremo la nostra selezione Fatta in maniera diciamo semplice e veloce E ovviamente possiamo fare copia in colla E aggiungere un secondo livello O anche terzo se lo desideriamo Un altro strumento molto utile che utilizzerete con Photoshop E' questo strumento qui Che è lo strumento crop Che permette di ridimensionare l'artboard in questione E permette di creare diciamo Una selezione specifica per quanto riguarda l'export del file finale Quindi se noi adesso salveremo un JPEG o un PNG in questo formato L'export finale sarà esattamente così Ora se riclicchiamo con lo strumento crop E allarghiamo questa selezione Possiamo vedere che abbiamo perso parte dell'immagine che prima avevamo E questa è una cosa molto importante da tenere a mente Ovvero che quando si effettua questa selezione Dopo non si può tornare indietro Quindi una cosa molto importante Un altro strumento che utilizzerete spesso è lo strumento testo Potete usufruire di questo strumento anche semplicemente selezionando la lettera T Che avremo Come potete vedere il cursore cambierà Nel momento in cui fate clic con il tasto sinistro del mouse Potete vedere che si aggiunge questo testo di default Ora possiamo scrivere quello che vogliamo E nel momento in cui facciamo doppio clic Possiamo anche selezionare qualsiasi font Che abbiamo a disposizione nella libreria del nostro computer E possiamo anche cambiare la grandezza di questo font E tutta una serie di altre impostazioni Che abbiamo a disposizione qua nella sezione destra delle properties E questo strumento permetterà di appunto creare Aggiungere del testo E poter modificarlo in maniera semplice e veloce Quindi abbiamo qui tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno Ad esempio per il letter spacing Questo qui basta che possiamo variare Se clicchiamo sui tre punti abbiamo ancora più opzioni Che però esploreremo nei prossimi video Spero che questo video tutorial sia stato utile Se vi è piaciuto lasciate un like E iscrivetevi al canale Dato che abbiamo centinaia di video E iscrivetevi al canale